Musica Salve a tutti friends dal vostro supercorris Eccoci qua ragazzi, ultime pagelle della stagione E ci mancheranno tanto le pagelle ma soprattutto ci mancherà tanto la formula 1 Ultima gara dell'anno, devo dirvi che è stata una bella gara Ferrari finalmente ha rialzato la testa dopo una situazione nell'ultima gara abbastanza incredibile, in negativo Sono contento ragazzi, sono dispiaciutissimo perché chiaramente la formula 1 torna fra tre mesi e mezzo e non sono pochi Però sono contento perché voglio ringraziare tutti voi che mi avete seguito Nelle pagelle, nelle live siete stati tantissimi ragazzi, siamo stati migliaia Chi poteva immaginare una cosa del genere L'anno scorso avevamo fatto, avevo iniziato a parlare di formula 1, iniziato a fare le pagelle, le live Però ragazzi era ancora poco seguita la situazione Quest'anno siete stati tantissimi, quindi permettetevi di ringraziarvi perché Io come penso tanti di voi, nella zona dove abito, non ho modo di parlare di formula 1 Perché ragazzi qua nessuno ama la formula 1, ama solo il calcio E quindi la vostra vicinanza mi ha permesso di parlare di quella che è la mia più grande passione Io adoro anche il calcio, ma per me la formula 1 è lo sport più bello che ci sta Quindi permettetemi di ringraziarvi Vi dico ragazzi non abbandonate questo canale perché Da questa settimana inizieranno, innanzitutto faremo tutte le pagelle di tutti i piloti e di tutti i team specifiche Quindi ogni pilota e ogni team avrà una pagella per fatti suoi In modo da essere molto specifici in quello che diciamo Mentre l'anno scorso feci i pagelloni totali di tutto Parleremo tanto di storia E ragazzi fidatemi che la storia della formula 1 oltre ad essere bella da sentire Vi può far capire molto di quello che accade in pista Quindi faremo la storia della formula 1, le gare più belle, gli eventi più incredibili che hanno cambiato la storia della formula 1 Parleremo anche di piloti, parleremo, racconteremo le storie di piloti, di tanti piloti italiani Quindi ragazzi rimanete sintonizzati su questo canale perché faremo veramente tanta formula 1 in questi mesi e non vi farò sentire soli Faremo una live settimanale di formula 1 news live by supercorris Che significa? Probabilmente di mercoledì su questo canale faremo una live parlata dove parleremo delle news più importanti di quella settimana della formula 1 E sapete che la formula 1 è sempre piena di news, dichiarazioni, cose pazzesche E in più farò anche il video, penso sempre il mercoledì mattina poi per avere anche lo spunto alla sera di formula 1 live con supercorris Quindi tutte le settimane arriverà il video di tutte le live della formula 1 e in più formula 1 live Così ci teniamo comunque in contatto aggiornati sulla formula 1 Poi è chiaro che quando inizieranno ad esserci le presentazioni, i test, ripartirà la solita programmazione di supercorris come è stata l'anno scorso Quindi mi raccomando rimanete sintonizzati e continuate a far sentire la vostra presenza ragazzi Perché non vorrei che decade il tutto dopo quello che abbiamo costruito Ragazzi l'invito è come al solito è quello di iscrivervi a questo, al secondo canale Supercorris Stakever Dove parliamo di calcio, di MotoGP, di rally, di tante altre discipline C'è il canale degli Shorts dove ogni notizia, ogni video che vedete poi riproposto qua lo trovate là Ho già fatto un video di un minuto dove dico le mie impressioni a caldo sul Gran Premio appena finito Quindi Supercorris Shorts lo trovate sulla home C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprimi, sondaggio con cui vi chiedo ogni volta cosa volete vedere sui miei canali C'è il canale delle offerte Amazon ragazzi, questa è la settimana del Black Friday Io da venerdì ho messo, non so quante offerte, in tre giorni abbiamo messo oltre 100 offerte incredibili Giochi, volanti, pc, telefonini, tablet Iscrivetevi e andate su, scorrete fino a quando trovate scritto 18 e scendete E ragazzi qualcosa che vi può servire a prezzi stracciati lo trovate sicuro Perché ho messo di tutto, le cuffie gaming, le cuffie della musica Di tutto Anche le micro SD, le cose piccole, il chiavetto USB C'è di tutto e continuerò per tutta la settimana Fino alla settimana prossima, fino a domenica prossima che finirà il Black Friday su Amazon Vi voglio dire, infine ho fatto un Black Friday su questo canale anche per quanto mi riguarda Voi sapete che a livello di abbonamento Platino ho fatto tre videocorsi che vi possono permettere Anche se partite da zero con pochissimi soldi Di iniziare a fare gli YouTuber e crescere in maniera considerevole su YouTube, sui social E imparerete a montare video con uno smartphone tranquillissimo, banalissimo, in maniera semplice Questi tre video dovevate pagare l'abbonamento Platino 24,99€ per poter accedere L'ho messo nell'abbonamento Oro, quello di 9,99€ Li troverete su quell'abbonamento per tutta la settimana Quindi chi vuole fare i videocorsi semplici e poter crescere su YouTube Ha l'ambizione di crescere su YouTube, ha un canale che vuole crescere subito Ragazzi sono metodi scientifici che mi hanno permesso di crescere Per esempio sul secondo canale aperto il 12 maggio è già ultramonetizzato e ultraseguito Quindi fino a domenica prossima, poi li rimetterò tutti a livello di abbonamento Platino Perciò ragazzi vi ringrazio e partiamo subito con questi video Allora con queste pagelle Alonso, Alonso non posso dare un voto perché si è ritirato Francamente Alonso io penso sia contento anche lui che sia finita questa stagione Perché ragazzi è stata veramente una stagione nefasta Peccato perché Alonso è stato un pilota che a 41 anni ha dimostrato di essere ancora un fenomeno Con una macchina non eccezionale ma molto buona Ha fatto cose clamorose Se non avesse avuto tutte queste sfortune anche un po' traghettate dal team Avrebbe strabattuto con nella classifica Piloti Ragazzi è un personaggio Alonso che in pista si fa ancora rispettare Speriamo che l'Aston Martin gli dia una macchina decente perché ci divertiremo ancora tanto con lui A 41 anni ancora integro Certo con una macchina ipercompetitiva non so se vincerebbe il mondiale ma sicuramente lotterebbe Quindi faremo la pagella di Alonso e vi dirò cosa penso della stagione e parleremo anche dei risultati Nelle pagelle che farò per ogni singolo pilota e team vedremo anche i risultati che quel pilota ha ottenuto durante la stagione Latifi Mamma mia ragazzi Latifi male 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 È stato pure tamponato da Schumi Non voglio dargli colpe chiaramente Sì però si chiude una carriera abbastanza in colore Ragazzi ne parleremo nel video a lui dedicato Non voglio soffermarmi troppo su di lui Hamilton voto 5 perché è andato male Cioè ragazzi sì si è ritirato quello che vi pare Però Hamilton quest'anno ha sconfessato quello che è stato detto prima Dai falsi profeti ovvero Hamilton 7 volte campione del mondo un fenomeno a livelli di Schumacher No Questa è la stagione come vi avevo ampiamente anticipato che ha dimostrato quanto Hamilton sia un pilota assolutamente normale Un buon campione nulla di più perché a parità di auto le ha prese dal suo compagno di squadra che è un ragazzo giovane e alla prima annata in un team Diciamo top Poteva subire la pressione non l'ha subita Hamilton non ha vinto una gara quando il compagno di squadra l'ha vinta è arrivato dietro da tutti i punti di vista Ragazzi Schumacher non ha mai avuto problemi a battere il compagno di squadra anche quando la macchina era scandalosa Vedi il 2005 Schumacher distrugge barrichello con una Ferrari scandalosa quindi vedete la differenza Su non ci prendiamo in giro Hamilton è un ottimo pilota sarà sempre considerato da me un ottimo pilota non un 7 volte campione del mondo ma neanche lontanamente Ha vinto troppo con una vettura che gli permetteva di dominare Adesso che guida un'auto molto più normale e ha un compagno di squadra talentuoso il fenomeno non lo fa più Cioè oggi abbiamo visto Hamilton parte partire male la situazione con Sainz ragazzi sì è vero che Sainz l'ha stretto ma lui poteva tranquillamente passare sul cordolo Là è piano il cordolo è molto grande Hamilton ha fatto semplicemente la cosa più semplice che ha fatto per l'anno scorso ha tagliato la curva Quindi giusto ridare la posizione a Sainz e poi cioè io non capisco il fatto di lasciare aperta completamente la porta a Perez Cioè Hamilton è riuscito ad uscire bene dalla chicane Prende tutto il rettilineo Perez è più dietro più attardato rispetto al giro prima Praticamente poteva semplicemente dargli l'esterno Lì Perez in quel giro non l'avrebbe sorpassato mai dall'interno Perez si mette dentro e se ne va Questo è il fenomeno che tutti dichiarate e non lo è Stagione senza vittorie stagione sesto in classifica generale con ce l'ho qui la classifica Con 240 punti quindi 35 punti in meno del compagno di squadra stagione dove tu comunque hai preso 50 milioni di euro di stipendio E non hai vinto un cazzo l'anno prossimo prende altri 50 Quindi ragazzi ridimensionato tantissimo Hamilton Come era prima di fare il fenomeno in Mercedes Kevin Magnus è male Io non l'ho visto Magnus non ho visto la gara L'hanno in quadra totalmente poco Voto 4 anzi voto 3 perché è molto male Arrivare così dietro non so se ha avuto problemi tecnici però Mi aspettavo di più Comunque la stagione di Magnus è positiva e ne parleremo nel video specifico Schumacher voto 2 Cioè ragazzi Chiudere la tua prima parte di carriera Perché poi vi ripeto Schumacher secondo me può tornare in Formula 1 Tamponando Latifi Male molto male È chiaro che Schumi non lo possiamo valutare per questo bienio Perché l'anno scorso praticamente ha guidato un catorcio Quest'anno è stato messo sotto pressione da inizio anno Non lo si può valutare Di certo la mia mentalità mi porta a pensare che non sia un fenomeno E sia probabilmente inferiore anche ai vari Ras E le vari Norris a piloti più talentuosi di lui Però io non vedo uno Schumacher così scarso come dicono tutti È chiaro che se vai in Mercedes Ferrari fa una doppia cazzata perché l'ha preso dalle giovani L'ha fatto crescere Nel momento in cui te lo puoi mettere in seno al team Come terzo pilota Con Giovinazzi che andrà nel WEC Che già ve l'avevo anticipato molti mesi fa Schumacher te lo metti in seno al team Gli fai fare dei test Cerchi di capire se è un pilota veramente scarso Oppure se è una prospettiva futura Lo diamo a Mercedes Magari in Mercedes sboccia E dopo te lo ritrovi come nemico Questa è l'intelligenza Ferrari Però per me Schumacher non darà l'addio alla Formula 1 Può tornare Vedremo come, quando e perché Bottas votò due male Cioè ancora una volta arrivi dietro Zu Ragazzi Bottas ha fatto Le prime 6-7 gare Probabilmente era il pilota più in forma della griglia E io l'ho venerato Andate a vedere le pagelle inizio stagione E dopo si è perso Non solo per una macchina che non è stata più competitiva Ma l'ha presa sempre dal compagno di squadra Questo mi porta a dirvi Bottas Io lo prenderei Lo licenzierei Sono molto sincero Non merita di guidare un Alfa Romeo Che Sì voi mi dite Eh però se Bottas non portava i punti Sì va bene Bottas è arrivato Decimo nel mondiale piloti Con 49 punti E l'Alfa Romeo Comunque si è riuscito a qualificare Sesta nel costruttore A pari punti con l'Aston Martin Quindi ha preso questo ottimo risultato Tanti soldi in più Però non puoi avere un pilota Che ti fa 7-8 gare bene su 22 E' inconcepibile E ne parleremo nelle sue pagelle Gasly voto 2 Uguale Gasly non mi è piaciuto per niente L'unica cosa positiva è stata di Gasly E là meriterebbe un 10 Il fatto che ha praticamente fatto perdere Un buon mezzo secondo a Perez Nel momento diciamo clou della gara Perché Perez arriva dietro Gasly Gasly non mi ricordo con chi stava lottando in quel momento Forse sembra sì Proprio con Albon Gasly non gli dà strada E praticamente se lo ritrova nelle curve Perez perde mezzo secondo Quello sì Ma a livello di prestazioni ragazzi E di stagione Che vogliamo parlare di Gasly Cioè questo è un pilota che ha vinto gara Ha fatto stagioni incredibili E quest'anno è fatto schifo Ha preso Nella classifica piloti 23 punti L'Alfa Tauri è arrivata penultima Cioè che si deve dire Pilota quest'anno o sceno Poi vediamo l'anno prossimo con l'Alpine Che è un'occasione ghiotta per lui Ma quest'anno dobbiamo valutare il pilota Che ci si aspettava di più Ha fatto cagare Quindi sono deluso È chiaro che ha fatto quel gesto Secondo me contro Perez Normalmente si sarebbe buttato fuori dalla pista Perché ormai non aveva più niente da chiedere Alla Red Bull Dato che se ne andrà Quindi quello buono fantastico Però come stagione veramente deludente Albon Voto 6 dai Con una Williams Non prestazionale Su questa pista Arriva comunque Tredicesimo Stagione positiva per Albon Anche lui l'abbiamo rivalutato Altro ex pilota Compagno di squadra di Verstappen Rivalutato in una stagione Dove comunque Non ha fatto miracoli Però ha preso 4 punti Intanto Ha fatto parecchie gare Al ridosso della zona punti Albon ragazzi Un pilota discreto Come gli Okon E tanti altri Che può correre Può fare anche cose buone In un team che lo supporta Non come ha fatto la Red Bull all'epoca Guagnu Zhu Voto Dai 7 7 perché comunque Arriva a dodicesimo Si mette dietro Bottas Arriva non lontanissimo Dalla zona punti Dai Alla fin fine ragazzi Io l'ho criticato Non è che abbia fatto sfracelli E ci ricorderemo Della prima stagione di Zhu Come qualcosa eccezionale Però il suo Un minimo l'ha fatto Ha dimostrato Di essere un buon pilota Meglio dei Mazepin E dei Latifi Sicuramente Quindi Vedremo l'anno prossimo Magari Con una vettura Si spera competitiva Per tutta la stagione Cosa possa fare Perché Zhu Ha preso la fin fine Pochi punti in classifica Solo 6 Al confronto Con i 49 Di Bottas Però c'è da dire che A inizio stagione Ha pagato comunque Lo scotto delle sordi E poi quando È entrato in forma Ha avuto un incidente brutto A Silverson L'Alfa Romeo Se ne è calata Voi mi dite Perché ha calato Il livello prestazionale L'Alfa Romeo Perché Come ha detto Bottas C'erano poche persone Rispetto a quello Che era il lavoro del team L'Alfa Romeo È un team che conta Probabilmente Sulle 5-600 persone A fronte delle 8-900 Mille degli altri E quindi è chiaro Che non ha potuto Sviluppare bene l'auto Però Comunque Zhu Per gran parte Da metà stagione in poi Ha distrutto Bottas Quindi è spiegabile Questa cosa Yuki Tsunoda Voto 5 Sì sei a ridosso Della zona punti Ma Tsunoda A me non mi è piaciuto Quest'anno Ragazzi Stagione non eccezionale Se critichiamo Gasly 23 punti Tsunoda a 12 Cioè la stagione Deludente Di Alfa Tauri Ci sta anche Perché Alfa Tauri Comunque è stata Una scuderia Deludente Quest'anno Però Tsunoda Ha fatto veramente Casini inarrabili Eppure oggi Cioè Una gara discreta A ridosso della zona punti Però già se non si ritirava Hamilton Se non si ritiravano Gli Alonzo Arrivava dietro Quindi Ragazzi Tsunoda è un pilota Che corre solo perché C'ha la Honda dietro Ed è giapponese Altrimenti non correrebbe In Formula 1 Sebastian Vettel Voto 7 Perché Gli hanno rovinato La gara All'interno del team Secondo me L'hanno fatta apposta Per far passare avanti Stroll Vettel Stava facendo Una gara Che lo poteva portare Tranquillamente Essere lui Ottavo Al posto di Stroll Ed invece Il team Gli ha rovinato Gli hanno fatto fare Una strategia Uno stilt Molto lungo E poi si è ritrovato In difficoltà Lui comunque Non ha fatto Sorpassi clamorosi È sempre un po' In difficoltà Negli sorpassi Ultimamente Vettel Lo sappiamo Però c'è anche da dire Che ha preso comunque Un decimo posto Non è stato sufficiente All'Aston Martin Per superare L'Alfa Romeo E questo è un risultato Scandalosamente Negativo Perché l'Aston Martin Prometteva di lottare Per la vittoria Prometteva grandi cose Un nome importante Dietro Tanti soldi Hanno rubato I tecnici A tanti altri team Ne hanno ingaggiati Hanno copiato Come al solito Soluzioni di alte scuderie Arrivi dietro Male E Vettel Oggi è stato penalizzato Meritava di finire La sua carriera In Formula 1 Meglio Faremo un video Dove parleremo Di tutta la carriera Di Vettel In Formula 1 Nelle prossime settimane Torneranno anche Le ruberie Mercedes E poi faremo anche Quelle Red Bull Quindi rimanete Sintonizzati Perché ne vedrete Delle belle Daniel Ricciardo Nono Voto 8 Perché dai Conclude la sua carriera In Formula 1 Con Potrebbe anche tornare Però per ora Conclude la sua carriera In Formula 1 Comunque con un ottimo risultato Sì Lontano da Norris Però Per il trend Della stagione Un nono posto Di Ricciardo È buono Alla fin fine Non è servita McLaren Per evitare Lo smacco Della perdita Del quarto posto Costruttori Contro l'Alpine McLaren Quest'anno Ragazzi è stata Molto deludente Non lo devo dire io A inizio mondiale Mi ricordo Parlavamo di una McLaren Che poteva vincere Delle gare Speravamo potesse Lottare per il mondiale Invece è stata Scandalosa Io penso Che evidentemente C'è proprio Delle mancanze All'interno Del team McLaren Che non la può Portare a vincere Poi Gare mondiali Vedremo Ricciardo ha fatto Male Andiamo a vedere Nella classifica È solo Undicesimo Con 37 punti Distanziatissimo Il compagno di squadra Però c'è anche da dire Che lui pure Non ha sentito mai La fiducia del team Vedremo se la Red Bull Penserà a lui Per un'eventuale sostituzione In futuro di Perez Sarebbe bello Rivedere Richard in Red Bull Ma sicuramente Non potrà mai più Lottare per nulla Se tornerà in Formula 1 Lance Stroll Voto 8 Perché Sì arrivo 8 Porta punti Aston Martin Però vi dico la verità Stroll quest'anno Proprio come Ocon Avvantaggiato In tutto e per tutto Da un team Che di sua proprietà L'ha comprato il padre Il team Aston Martin Quindi pensate un po' Cosa c'è da dire Parleremo della sua stagione Ma non mi ha piaciuto Stroll Altro pilota Molto poco talentuoso Ocon Voto 7 Arriva 7 Non riesce a superare Norris Raga è difficile Giudicare Ocon Perché quando è un team Completamente a favore È difficile giudicare L'operato di un pilota Buon pilota Sicuramente Difficile da superare Ha fatto una stagione Nel totale Positiva Però se andiamo a vedere Ocon è arrivato Ottavo in classifica Con 92 punti Alonso dietro di solo 11 punti Se Alonso non avesse avuto Tutti i problemi incredibili Che ha avuto Ragazzi avrebbe Vinto il duello Con Ocon Molto meglio l'anno scorso Che quest'anno E faremo la pagella di Ocon Lando Norris Sesto Voto 8 Bella gara Come al solito Norris Il migliore Dei non top team E questo è un pilota Ragazzi Che veramente Ha fatto il suo Quest'anno Ha fatto Il settimo posto In classifica Con 122 punti Sono tanti Per la vettura Che ha Norris Guardando anche Ricciardo Grandissimo risultato La McLaren È rimasta Solo i 15 punti Dall'Alpine Nel mondiale Costruttore È stato tutto merito Di Norris Norris è un pilota Ragazzi Che io in Ferrari Vedrei molto bene Perché questo Ha davvero le qualità Per fare grandi cose Vedremo un po' Cosa accadrà Ma Norris È veramente Un pilota forte George Russell Quinto Voto 7 7 Perché comunque La quinta posizione La prende Però ragazzi Male Male La Mercedes Pure Russell Sì Alla fin fine L'ho visto duellare Discretamente Con Hamilton Però me l'aspettavo Più competitivo È arrivato comunque Quarto nel mondiale Ha fatto una vittoria Quest'anno Quindi la stagione È andata bene Ne parleremo Oggi me l'aspettavo Un po' più coriace Un po' più combattivo Invece arriva comunque A 11 secondi Da Sainz Però come avete visto Russell Quello che mi piace È che nei team radio Ragazzi Allunghiamo lo stint Non rientro Non mi chiamate Perché non entro C'è un pilota Un pilota autoritario Che sa quello che deve fare In pista Al contare di Hamilton Che poi si lamenta Delle strategie Carlo Sainz Voto 7 e mezzo Ha fatto il suo Non che sia andato male Ha fatto il suo E fateci caso Lo dicevo in live Guarda caso Adesso che sono uscite Le voci di Licenziamento Di Binot E di altri membri Della dirigenza Ferrari Ferrari Guarda caso Azzecca le strategie Fa la gara che deve fare E in più Sainz Gioco di squadra Con Leclerc Perché Sainz parte bene Non attacca mai davvero Leclerc Se andiamo a vedere Comunque si tiene dietro Il pilota monegasco Non ha lo stesso passo Di Leclerc A dimostrazione Per l'ennesima volta Di come ragazzi Sainz Non ha Leclerc Leclerc è superiore Ha fatto i pit stop Prima Quando fa la prima sosta Praticamente Sainz Arriva dietro Leclerc Che esce Poi dai box A sua volta E la lo può attaccare Sono attaccati Due Sainz ha le gomme più calde E non l'attacca Quindi vedete come a Sainz Gli è stato detto Fatti i cazzi tuoi Finalmente Dovevamo arrivare All'ultima gara Per avere Un ordine di scuderia Comunque Arriva dietro Leclerc Di parecchio A livello di Secondi Arriva dietro Leclerc In classifica Di parecchio E quest'anno Sainz È mancato tanto Di Sainz è mancata Non parlo della Non competitività Inizio mondiale Perché ci può stare Che una macchina All'inizio non ti va bene Non ti va genio Non riesci Ma Sainz ha fatto Tre ritiri al primo giro Ragazzi Per tre errori suoi Al primo giro Non puoi buttare le gare Al primo giro Poi mettiamoci pure Il quarto ritiro di Russell Che lo ha sbattuto E ci sta Però Sainz ha fatto Tre ritiri clamorosi Ha vinto una gara Solo perché Ferrari Gliel'ha fatta vincere La gara che doveva vincere Sainz quest'anno Era in Canada Quando Ha fatto 15 giri A tre Quattro decimi Da per stop E non ha provato Una volta a buttarsi dentro E questo ti fa capire Che Sainz Purtroppo non è Leclerc Quindi Lo prendi Gli dici Se vuoi rimanere qua con noi Fa il secondo pilota E' chiaro che Ferrari Se non lo fa Perché Sainz Come era anche il padre Che se lo litigavano tutti Nel mondiale rally Ha una dote di sponsor Che permette sempre Di fare la voce grossa Ma a livello prestazionale È chiaro Sainz non è Leclerc Ed è inutile Prenderci per il culo E questa è una gara Che l'ha dimostrato Alla fine arriva quarto Fa il suo Perché si tiene dietro Le Mercedes Va benissimo tutto Però I risultati parlano chiaro Sainz non è Leclerc Per l'ennesima volta Perez Terzo Voto 7 Perché il suo l'ha fatto Effettivamente ragazzi Non so se avete visto Perez ha una Red Bull Uguale a quella di Verstappen Ma non uguale in pista La Red Bull di Perez Usura di più le gomme E probabilmente Va anche un po' di meno in rettilinio La strategia Red Bull Sicuramente non l'ha valorizzato Perché Verstappen All'inizio Gli ha dato forse Pur un po' di scia E l'ha tirato un po' Poi però Si è andato per cazzi suoi Quindi dimostrando che A Verstappen di Perez Interessa molto poco Peccato per loro Perché potevano fare Una doppietta nel mondiale Piloti Che non era mai avvenuto Però Perez il suo l'ha fatto Ha comunque dovuto Battagliare con una macchina Che usurava le gomme In maniera assurda Rispetto a quella di Verstappen Uno mi può dire Sì però è pure la guida Sì ma la guida Ti può far usurare le gomme Un po' di più Ma non in questa maniera clamorosa E ha perso effettivamente Un secondo posto Nel mondiale Piloti Che non meritava Ragazzi E per chi ha vinto Molto meno di Leclerc E perché non ha un talento Minimamente paragonabile A Leclerc Bene per la Ferrari Sarà una delusione Per lui Ma ragazzi Perez è questo E già sa il suo futuro Qual è Fare il secondo di Verstappen Vincierti quelle due gare All'anno E stare zitto Leclerc Voto 10 Io penso che oggi Leclerc Insieme magari A quella di Monza Del 2019 Abbia fatto Una delle più belle gare Della sua carriera Sontuosa perché Non ha sbagliato nulla È partito bene Ha messo pressione A Perez Inducendo Red Bull A sbagliare Nelle strategie E sostanzialmente La strategia Ferrari Ragazzi Inutile che mi venite a dire No no La strategia Ferrari Ragazzi Era sbagliata Non a caso Quella di Sainz Era diversa La strategia Ferrari Su Leclerc Era sbagliata Perché Pensate Se non ci fosse stato Un po' Gasly Che faceva perdere Il mezzo secondo A Perez Pensate che A Leclerc Bastava una sbavatura E avrebbe perso Il secondo posto Ragazzi È chiaro Dobbiamo ringraziare Leclerc Che ha fatto Una guida Sontuosa Senza fare Un minimo Errore L'unico errore L'unica problematica È stata quando Hanno sbattuto Schumacher E la Tiff Si è ritrovato dietro L'ha perso Mezzo secondo Se non Leclerc Guida Sontuosa Ha gestito le gomme È riuscito Ad arrivare alla fine In maniera incredibile Ma Ragazzi Per stare tranquilli Bastava copiare La strategia A Perez Entrava Perez Entrava Leclerc Il giro dopo In entrambe le soste E Leclerc Non se lo sarebbe visto Per niente Perez Perché se avete visto Con la sua guida Riusciva a consumare Molto meno le gomme Di Perez Leclerc era superiore Non a caso Ha guadagnato sempre Quando i due Stavano in pista Con gomme uguali Chiaramente Alla fine ha perso Ma davvero La Ferrari Si è giocato il jolly Perché è arrivato A un secondo e tre Perez Ma Bastava Che Gasly Gli dava subito Spazio E probabilmente Perez Avrebbe sorpassato Leclerc Quindi La strategia Ferrari Ora possiamo dire È stata azzeccata Perché Leclerc È stato sontuoso Incredibile Ha dimostrato Di essere superiore a Science Di essere un fenomeno Di fare veramente Il massimo E si è meritato tantissimo Questo secondo posto Nel mondiale Piloti Perché ragazzi Leclerc Ad oggi È il secondo Miglior pilota Al mondo Perché il primo È Verstappen A prescindere Perché Verstappen Il migliore di Leclerc Ha ancora Una cattiveria Innata in pista Superiore a quella Di Leclerc E soprattutto Verstappen Sbaglia Qualcosini in meno E riesce a gestire Meglio le strategie Lui da dentro la macchina Ma Leclerc Ci può arrivare A quello A livello di giro Secco in pole position Per fare la pole Leclerc è superiore E anche a livello Di passo gara Di gestione gomme Leclerc sta Sullo stesso piano Quindi pilota Sontuosa Meritava il secondo posto Di prenderlo molto prima Pensate quanto Leclerc avrebbe potuto Fare meglio Se Ferrari Non faceva le minchiate Però vi dico Oggi Ferrari Ha davvero rischiato La debacle Perché se Perez Passava Leclerc Sarebbe stata Una delusione enorme Ci ha voluto Un po' di fortuna Con Gasly E Leclerc Non ha fatto Mezzo errore Bastava una piccola Uscita di pista Di Leclerc Durante la gara E il secondo posto Non sarebbe stato acquisito Quindi Ripeto Ancora Ferrari Sbaglia i pitstop Perché ha fatto i pitstop In tre secondi E ancora Leclerc Con questa strategia Poteva essere penalizzato Bastava copiare Perez E Ferrari Avrebbe preso il secondo posto Con tanto vantaggio su Perez Perché andava meglio Sostanzialmente Verstappen Voto 8 Grande gara Sì però Come al solito Non ha aiutato minimamente Il compagno di squadra Gara dove aveva una vettura Cioè vedi Eppure difficile giudicare Verstappen Ragazzi Come lo giudichi C'è una vettura Diversa da quella di Perez C'è una vettura Che è l'unica Che non degrada le gomme È l'unica Che va come un treno È l'unica Che si guida Sui binari Cioè ragazzi Io non so come giudicare Bella gara Ennesima vittoria Vabbè ma Come ha detto pure lui Ragazzi La stagione ha fatto schifo Questa è stata Un'annata di Formula 1 Che ha fatto cagare Cioè ragazzi Dopo un'annata stupenda Che era quella del 2021 Che non andava bene Si è rivoluzionato Tutte le macchine Per fare un'annata Del genere È stata un'annata Di merda Lo stesso Verstappen Poi è chiaro Che non lo pensa Perché non lo pensa Però ha detto No ma io spero Che l'anno prossimo Si lotti Perché ragazzi Sta veramente Un'annata di merda Vedete la Red Bull Ha preso 200 punti Sulla Ferrari Nel costruttore E Verstappen A 150 punti Più di Leclerc Dai su Mondiali del genere Dovrebbero essere presi Impacchettati E fatti di tutto Per non farli ripetere L'anno prossimo Non lo so cosa accadrà Di certo ci sarà Mercedes e Red Bull Vedremo Ferrari Perché tutti mi dicono Sì ma la base è questa Ferrari Ragazzi Ferrari per fare una macchina vincente Ci ha dovuto lavorare due anni Ditemi voi Siamo certi Che riuscirà a fare Una macchina vincente Binotto Non penso che se ne andrà Per il semplice motivo Che ha raggiunto I secondi posti E quindi Magari daranno Un'altra occasione Vediamo Io spero solo Che a Binotto Gli venga imposto Di decidere subito Un primo pilota Nelle prime gare Della stagione E soprattutto Di martellare Sugli errori E le cose Che non si devono ripetere Migliore della giornata Per distacco Leclerc Peggiore Probabilmente Hamilton Ciao Ciao